Due stelle per le note di Natale, possiamo dire per le stelle di Natale? Assolutamente sì. Prego. Ma è un progetto che coltivavo da tempo, sono, credo di poterle definire due amiche, stiamo ai vertici sia del violoncello che del pianoforte, e poi c'è un grande affiatamento tra loro, sono due persone splendide, oltre che due grandi musiciste, per cui è stato veramente un piacere enorme portarle per un concerto del genere. Perfetto. Claudia, chiaramente il tutto collegato con un pensiero a Marco, un gran bel regalo. Beh, un bellissimo regalo, ci hanno fatto sognare, poi la musica ci porta veramente in paradiso dove ci sarà lui, ma è anche questo uno scopo, diciamo, terreno, ma se vogliamo ancora bello, che è quello di poter, con una raccolta fondi, sistemare l'organo della Chiesa, in modo tale che durante le messe si possa utilizzare quest'organo, che è un organo importante, e spero che il prossimo concerto sarà un concerto d'organo. Perché no? Allora sentiamo anche la voce dell'innocenza. Sofia, vediamo se riesco a prenderla. Sofia, ti è piaciuto il concerto? Sì. Ok, un pensiero a Marco? A tuo nonno. A tuo nonno? Ciao. Un cuore. Ripeti? Un cuore. Un cuore. Grazie a tutti e grazie Claudia, grazie a voi. Grazie a voi. Mi sono emozionato anche io.